ricordo uno maupassant dal giorno avanti non avevamo mangiato niente per tutta la giornata eravamo rimasti nascosti in un granaio stretti gli uni agli altri per sentire meno freddo ufficiali e soldati mescolati insieme tutti abbruttiti dalla fatica alcune sentinelle distese nella neve sorvegliavano i dintorni della fattoria abbandonata nella quale ci eravamo rifugiati per evitare sorprese e cambiavamo di ora in ora perché non si assiderassero coloro che potevano dormire dormivano gli altri rimanevano immobili seduti per terra dicendo di tanto in tanto qualche parola al proprio vicino da tre mesi ormai come un mare che debordava l'invasione era dilagata dappertutto erano ondate di uomini gli uni dopo gli altri che ci lasciavano dietro una scia di predatori quanto a noi ridotti a 200 franchi tiratori un mese prima eravamo 800 battevamo in ritirata circondati dal nemico assediati perduti bisognava raggiungere blainville prima del giorno successivo a blainville speravamo di trovare il generale c se entro la notte non riuscivamo a percorrere le dodici leghe che ci separavano da blainville o se la divisione francese se n'era già andata per noi non c'era più speranza non si poteva marciare durante il giorno attraverso la campagna perché era piena di prussiani alle cinque era già notte una notte livida di neve i bianchi fiocchi cadevano cadevano seppellivano tutto sotto un gran lenzuolo gelido che diventava sempre più spesso sotto l'innumerevole quantità e l'incessante accumularsi di quella vaporosa sfilacciatura di ovatta cristallina alle sei il distaccamento si rimisa in marcia 300 metri avanti soli quattro uomini camminavano perlustrando la strada poi veniva un plotone di dieci uomini comandato da un sottotenente quindi il resto della truppa tutto insieme come va va a caso secondo la stanchezza e la lunghezza del passo a 400 metri sui nostri fianchi alcuni soldati procedevano a due a due la bianca polvere che scendeva dalle nubi formava su di noi come una veste bianca che ci copriva dalla testa ai piedi si accumulava sui nostri chepie e sui cappotti facendo di noi dei fantasmi sembravamo spettri di soldati morti talvolta ci riposavamo per qualche minuto allora non si sentiva più che quel vago fruscio della neve che cade quel fruscio quasi impercettibile dei fiocchi che si ammucchiano l'uno sull'altro qualcuno si scuoteva altri non si muovevano affatto poi un ordine circolava fra noi appena sussurrato i fucili venivano rimessi in spalla e con andatura faticosa la marcia ricominciava improvvisamente i perlustratori tornarono indietro qualche cosa li allarmava fu dato l'alt sei uomini partirono in ricognizione in un grande bosco davanti a noi cominciò l'attesa in un cupo silenzio all'improvviso un grido acuto un grido di donna una straziante vibrante nota di quelle che le donne mettono per spavento lacerò la notte spessa di neve dopo qualche minuto furono portati due prigionieri un uomo molto vecchio e una ragazza il capitano li interrogò sempre a bassa voce vi chiamate? Pierre Bernal cosa fate di mestiere? sono il cantiniere del conte di Ruffet questa è vostra figlia? sì che cosa fa? è la vandaia al castello perché andate in giro di notte? in nome di Dio cerchiamo di salvarci perché? dodici ulani sono passati di qui stasera hanno fucilato tre guardie e impiccato giardiniere io io ho paura per la ragazza dove andate? a Blainville perché? perché là si dice che c'è l'esercito francese conoscete la strada? alla perfezione va bene rimanete qui con me e la marcia attraverso i campi ricominciò il vecchio seguiva silenzioso il capitano sua figlia si trascinava accanto a lui improvvisamente la ragazza si fermò padre mio disse sono così stanca che non riuscirò ad andare molto lontano e cadde tremava di freddo pareva stesse per morire suo padre volle sollevarla ma non si riuscì il capitano batteva i piedi bestemmiava furioso e impietosito nello stesso tempo per dio non posso lasciarvi crepare qui ma alcuni soldati si erano allontanati tornarono con dei rami tagliati in un batter doppio fu fatta una barella il capitano si era commosso per dio questa sì che è gentilezza forza ragazzi chi mette ora il cappotto? per dio è una donna venti cappotti vennero sfilati e gettati sulla barella in un secondo la ragazza avvolta in quei caldi abiti da soldato si sentì sollevare da sei braccia robuste che cominciarono a portarla ripartimmo come se si fosse bevuto un bicchiere di vino più coraggiosi e più allegri alcuni cominciarono persino a scherzare con quella gaiezza che la presenza di una donna restituisce sempre al sangue francese i soldati ora andavano al passo canticchiando marcette improvvisamente riscaldati un vecchio franco tiratore che seguiva la barella aspettando il suo turno per dare il cambio al primo compagno che si fosse stancato confidò al suo vicino io non sono più giovane io eppure vecchio farabutto riesco sempre a farmi smuovere le budella dal sesso fino alle tre del mattino si andò avanti quasi senza riposo ma improvvisamente come in un soffio fu dato l'alt poi quasi per istinto tutti si appiattirono al suolo laggiù in mezzo alla piana qualche cosa si muoveva pareva corresse la neve non cadeva più e ancora molto lontano si distingueva vagamente qualche cosa come un mostro che si allungava alla maniera di un serpente stendersi con lanci rapidi e fermarsi ancora e ripartire senza posa tra gli uomini stesi per terra correvano ordini appena morborati di tanto in tanto si sentiva un piccolo rumore secco e metallico un colpo la forma che errava nella piana si avvicinò e così si videro arrivare al galoppo uno dietro l'altro dodici ulani perduti nella notte erano così vicini che si udiva l'ansimare dei cavalli il rumore di ferro delle armi e lo scricchiolio del cuoio delle selle allora la voce forte del capitano gridò fuoco per dio e cinquanta fucilate ruppero il gelido silenzio dei campi quattro cinque detonazioni partirono in ritardo poi un'altra sola l'ultima e quando la polvere accecante si dissipò si vide che dodici uomini con nove cavalli erano caduti tre bestie fuggivano in un galoppo forsennato e una di esse trascinava dietro di sé attaccato per un piede alla staffa astratte il cadavere del cavaliere il capitano gridò allegro dodici di meno per dio un soldato tra gli altri rispose ancora vedove un altro aggiunse si vuol poco a fare il salto allora dalla barella sotto il mucchio dei cappotti venne fuori una vocina piena di sonno che cosa accade padre mio perché sparano fucilate il vecchio rispose non è niente piccina dormi ripartimmo andammo ancora avanti quattro ore il cielo impallidiva la neve si faceva più bianca più luminosa e brillante un vento freddo spazzava le nubi in cielo un pallido rosseggiare una debole zaffata d'acquarello si stendeva a oriente una voce lontana improvvisamente gridò chi va là un'altra voce rispose tutto il distaccamento si fermò e il capitano andò lui stesso avanti si attese a lungo quindi si ricominciò a camminare e dopo pochi passi davanti a una cacupola scorgemmo un avamposto francese i soldati tenevano il fucile in braccio un comandante a cavallo ci guardava a sfilare chiese che cosa portate su quella barella allora i cappotti si mossero si vide uscire di là dentro due piccole mani che si facevano largo poi una testa tutta spettinata un vicino tutto velato dai capelli che sorrideva rispose sono io signore ho dormito molto bene e non ho freddo una grande risata una grande risata si levò tra gli uomini una risata viva e soddisfatta un entusiasta per esprimere la sua gioia gridò viva la repubblica la truppa come se i soldati fossero impazziti si sgolò freneticamente viva la repubblica sono passati dodici anni un altro giorno a teatro la testa fine di una donna giovane e bionda ridestò in me un confuso ricordo ossessionante indistinto fui talmente turbato dal desiderio di sapere il nome di quella donna che lo chiese a tutti uno mi disse è la viscontessa di elle la figlia del conte di ruffè e tutti i particolari di quella notte di guerra mi si sono ridestati nella mente così netti che li ho immediatamente raccontati perché li scrivesse per il pubblico al mio vicino di poltrona e amico che si firma Mofrignes